buongiorno buongiorno dal vostro nick you e buongiorno amici ed amiche del canale mi raccomando al solito prima del video like al video iscrizioni al canale è importante mi raccomando e condividete il più possibile anche questo video che è veramente veramente importantissimo l'argomento di oggi come da immagine di copertina non è riguardante la juve ma è riguardante ormai un qualcosa di acclarato un sistema diciamo ben definito e chiaro ma ieri ho avuto un'altra ulteriore prova di tutto quello che è il castello che hanno costruito attorno a questa squadra a questa società al farsume al diciamo al grottesco perché ormai dall'allenatore che è meglio di di guardiola di lippi e di capello e di ancellotti ai giocatori che sono i più forti del mondo neanche il brasile di diva va pelè c'è ormai amminchiate ne tirano talmente tante ogni giorno che per quanto sono ridicoli e fanno ridere non si stanno neanche rendendo conto questo per vincere uno scudetto cioè non si immaginare a noi per nove anni che cazzo ci dovevano dire che cosa dovevano fare cioè dovevano chiudere le televisioni ai giornali andare a ritirarsi le squadre a casa e dire guardate è inutile giocare contro questa juve perché qua sono schiaffi dalla mattina alla sera infatti per dieci anni hanno preso schiaffi sonori a destra a sinistra non capivano neanche da dove arrivavano per quante gliene arrivavano però detto questo ieri mentre diciamo svolgo il mio lavoro come consuetudine come ogni giorno accendo radio sportiva ieri pomeriggio quindi andatevi ad ascoltare questo pezzo perché è fondamentale non dico il giornalista il giornale perché già se andate a riascoltarlo far ridere da sé e si commenta da sé ormai questo servilismo e questo giornalismo veramente pagliaccesco perché da pagliacci e parlano dell'inter parlano della società di zang e dicono però attenzione che se vi rendete conto cioè dice proprio testuale testuale parola c'è un presidente come zang che lascia marotta indipendente cioè gli lascia il compito di poter fare quello che vuole lo lascia libero ecco non è che non c'è attenzione non è che non c'è non è che non è presente cioè io più questo giornalista parlava più non sapevo se entrare lì in contatto con la radio e buttarlo dalla sedia non lo so spingerlo scuotere non ho capito ripeti quello che stai dicendo perché c'è un presidente che ti lascia così carta bianca ti fa anche agire in maniera tranquilla serena ecco perché ecco perché beppe marotta nonostante non gli abbia dato neanche un centesimo la famiglia zang lui può operare in massima serenità e tranquillità non avendo soldi perché non non gli dà soldi però eccolo lascia tranquillo sereno e lui fa i suoi interventi le sue operazioni a parametro zero e il mantiene l'inter lì c'è al posto di dire è una società fallita che sono quattro anni che prende soltanto i parametri zero perché non ha un euro in tasca e prende semplicemente il frattesi di turno pagabile in quattro anni e l'anno scorso ha incassato 100 milioni dalla finale 80 90 dall'ingresso champions 60 di onane con 240 milioni di euro ha preso turamma zero pavard ma ancora lo deve pagare non si sa quando quadrato a zero c'è una società fallita io devo sentire un giornalista sportivo intervistato ascoltato a radio sportiva che va a dire e ma no ma questo è un sistema che quasi quasi ha scelto zang così li lascia liberi e loro lavorano tranquilli e sereni quasi quasi magnificando questo atteggiamento e questo sistema qui siamo arrivati al punto che ribaltano quello che è la carta in tavola magnificando un sistema che è una merda c'è una squadra che ha debiti da risanare che ha rifinanziato quel bond che gli hanno fatto rifinanziare a tassi altissimi e che se non rifinanziano light trick stessa si riprenderà il giocattolo inter e poi automaticamente per rientrare dei del debito non pagato venderà i giocatori ovviamente fra quello che hanno fatto i vari illiot eccetera eccetera col milan dopo quello che è successo dal post berlusconi e loro ancora hanno la il barbaro coraggio cioè perché ormai apri la televisione e quell'altro trevisan devo sentire quell'altre cazzate che spara che l'inter gioco come il brasile la juve come il costa rica ma trevisan dove eri forse eri insieme a lele adani quando la juve per dieci anni vinceva e schiaffeggiava in lungo e largo tutte queste squadrette misere italiane che non valevano un cazzo o all'epoca come diceva dentanti non era un campionato allenante perché non c'erano competitor e adesso ci sono tutti questi grandissimi competitor che hanno falcao zico sereso maradona platini van basten raikard gullit o non so chi altro chi sono questi competitor nei confronti dell'inter chi sono la juventus che avete depotenziato e fatto depotenziare in tutto il circuito senza gli 80 milioni della champions dati al milan che era arrivato quinto il campionato era uscito dalla coppa italia stagione fallimentare da campione di tale oscente quale cosa cioè è il bello che state continuando a raccontare delle cose fantoziane e fate sempre più ridere cioè perché vi chi vi ascolta e ascolta delle frasi brasile costa rica inzaghi e meglio di lippi capello guardiola come risultati ottenuti uno scudetto di merda e uno se lo sono fatti fottere dal milano con radu che fa la papera e quattro coppa italia tra super coppa italiana e coppa italia che hanno vinto rubando le finali con la juventus in prima e secondo veri e valeri cioè ma che hanno costruito hanno semplicemente fallito questi dalla costruzione di conte siccome volevano emulare perché sono dei dei pagliacci dei cinesi quello possono essere volevano emulare la juventus quindi costruisco con conte cambio allenatore vinco e stravinco gli hanno regalato una finale di champions ma dei 19 trofei consecutivi che ha fatto la juve in nove anni loro non faranno neanche l'ombra perché non è cazzo suo imitare chi ha avuto dei campioni in campo e delle gestioni immense che quest'anno gli possono regalare un'altra finale di champions magari gliela fanno pure vincere è sempre un regalo questi non sanno fare un cazzo ma smettete la televisione e i giornali di fare queste porcate e porcherie che non le avete mai fatte neanche quando vi ripetono in dieci anni vi abbiamo aperto il culo a tutti cioè siete penosi veramente penosi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate mi raccomando like e iscrizioni al canale iscrizioni al canale forza facile semplice non costa nulla un grande abbraccio al prossimo video ciao applausi 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 applausi